basta con le distanzioni allora concentriamoci liberiamo Johnny Cage bravo Baraka ora libera anche Kenshi Tahashi forza Johnny e Kung Lao aiutate Kenshi non riesce a reggersi in più per questo Shamsung mi punirà torturando la mia famiglia la pagherà per quello che dovranno sotturare poi lascio ad affrontare Reptile detto anche Scyzoth vi saluto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace